Una notte dedicata al Negro Amaro è stata quella organizzata dall'Associazione De Gusto Salento in un elegante showroom di Milano, un modo per allargare il proprio palcoscenico verso una città da sempre sensibile verso il vino pugliese. Far conoscere il Negro Amaro fuori dai propri storici confini e farne apprezzare le sue peculiarità. E questo è lo scopo della serata organizzata in uno showroom milanese dall'Associazione De Gusto Salento con la presenza di 13 aziende e i rispettivi vini accompagnati da una selezione di prodotti tipici come il capocollo di Martina Franca, il caciocavallo stagionato in grotta e una lunga serie di sottolio. Nata nel giugno 2013 dall'idea di un gruppo di amici, amanti del territorio e delle sue tradizioni, De Gusto Salento ha visto così i propri sforzi premiati. Milano ha accolto il Negro Amaro con tutti gli onori per una serata dall'accento pugliese.